Musica Terra, sapone e vini continua la sua indagina sul territorio, siamo sempre a Torino, continuiamo a parlare di sapori, siamo una manifestazione organizzata da Hitler ma non una manifestazione particolare, siamo con Crusci, ma intanto il tuo nome com'è esattamente e dove sei e cosa fai? Allora, sono Andrea, Andrea di Crusci oramai, siamo in via dei Milleventi a Torino e facciamo fondamentalmente tutto quello che è sushi, sushi di carne cruda, lo abbiamo ripreso come tradizione orientale, quindi abbiamo preso tutto quello che era il metodo di cucina orientale e l'abbiamo ripreso su tutta quella che è la cucina piemontese tradizionale. Continuiamo sul tema del sapori, Alessandro e Dard di Schiacciala, ma intanto il vostro locale dov'è? Allora, il nostro locale è la Mercato Metropolitano a Torino che poi purtroppo ha chiuso, noi in questo momento stiamo continuando con quello che è stata la nostra nascita, quindi street food, le maggiori kermesse, abbiamo fatto il Salone del Gusto, il Torino Jazz Festival e altri importantissimi eventi enogastronomici. Questa serata che cosa proponete? Allora, il nostro fiore all'occhiello è la schiaccia toscana, che è un pane tipico toscano, da noi è rivisitato perché lo facciamo con lievito madre e farina di tipo 2 e poi abbiamo anche la pasta. Maria di Picciridda, specialità siciliana, si vede, si capisce, ma però dove siete e che cosa fate? Allora, noi ci occupiamo di cucina siciliana, dall'82 siamo in via Cavour con questo piccolo punto vendita a Picciridda e in via Arnaldo da Brescia per quanto riguarda ristorazione, pizzificio e sushi siciliano, il Banco di Sicilia. In particolare che cosa proponete, chi viene da voi che cosa trova? Chi viene da noi vuole mangiare qualcosa di gustoso, che sia vero di casa, piatti abbondanti e un ambiente accolente e familiare. Chi viene da noi, chi viene da noi.